Stavano monitorando diverse aree, le cosiddette aree calde della città e sono stati individuati due soggetti nigeriani che stazionavano nella zona via Abate e via Mazzoni. Quindi abbiamo ovviamente effettuato degli appostamenti e dopo un breve periodo i soggetti che avevano anche un atteggiamento molto guardingo sono stati avvicinati da un giovane. Ma l'arresto, ripeto, si colloca all'interno di un'attività che ormai ci vede impegnata da diversi mesi in collaborazione con ovviamente l'avvallo anche delle istituzioni locali a livello di prefettura e a livello anche di vertici dei comandi. Ovviamente la sinergia porta i suoi frutti perché la zona la conosciamo, è una zona particolarmente sensibile e ultimamente diciamo balzata anche agli onori delle cronache, comunque è una zona che noi già da diversi mesi teniamo costantemente monitorata perché probabilmente vicino alla stazione è un crocevia abbastanza importante come passaggio di persone e quindi si presta a essere anche un luogo idoneo per effettuare anche attività illecite. Sì, il consumo di crack da quello che noi abbiamo potuto constatare dagli arresti fatti dai sequestri effettuati è effettivamente in aumento. Era una droga, una sostanza stupefacente che non era molto presente fino a tanto poco tempo fa e invece adesso purtroppo insieme ad altre sostanze le quali per esempio lo Chabot stanno prendendo piede anche nel mercato dei giovani probabilmente per il fatto che l'assunzione viene assunto tramite una speciale pipetta per cui si fuma e non c'è bisogno, non c'è il deterrente anche psicologico di dover iniettare o queste cose qua. Diciamo che già dall'inizio dell'anno abbiamo iniziato a fare questi controlli specialmente lì nelle vicinanze della stazione di Modena il fatto di Brumotti che si è visto in televisione non era stata una novità per noi in effetti qualche giorno prima noi uno di quei due soggetti l'avevamo già arrestato quindi lo sapevamo e stiamo continuando a fare continuamente controlli in quella zona e anche in altre zone di Modena nei vari parchi, nuovi SAD e diciamo che già nel mese di gennaio ci sono stati diversi sequestri di cocaina, eroina specialmente droghe pesanti diciamo, una droga pesante che purtroppo crea dei gravi danni ai giovani e che purtroppo si sta diffondendo molto in questo territorio come nella regione Emilia Romagna.